ho fatto una piccola variazione nel senso che ho deciso di fare anche questa parte del muro alto uguali perché ho fatto la prova posizionando il telaio che è questo porta il telaio li ho fissati in modo da tenerlo in squadra perché come dicevo un telaio una porta vecchia quindi senza la porta non è facile tenerlo dritto in squadra perché non è non è proprio fatto bene con un legno vecchio proprio dei tronchi per cui io l'ho fissato così l'ho posizionato ma non era facile tenerlo dritto e giusto col fatto che non c'era il muro qua non ero sicuro per cui ho preferito tirare sul muro e ora lo posiziono ho lasciato un po di luce circa un centimetro e mezzo due per lato verrà schiumato con con anche la porta per cui poi aspetto che asciughi toglierò questi listelli che ho messo per tenerlo dritto e poi fissero ancora con delle viti telaio posizionato qua adesso schiumiamo abbiamo dovuto fare una via di mezzo per che non è perfettamente dritto abbiamo finito di schiumare è già asciugata quindi abbiamo tolto un traversino di questi qui centrali e la porta in modo da poter passare qua all'interno vabbè avevamo finito la schiuma quindi ne avanza ce n'è da mettere ancora un pochino però adesso in queste in questi spazi che sono rimasti tra il montante e il gas beton ci riempirò con la colla ma prima ci metto dei pezzettini di legno che facciano da da scontro perché poi ovviamente il telaio va fissato con le viti non vorrei che con solo la schiuma magari tirando le viti si diciamo si tirasse dietro anche un po il telaio da modificare le metto dei pezzettini a scontro tre o quattro qua dove ci stanno poi riempio appunto un po di colla che tanto anche quella indurendo fa spessore però dove riesco ci metterò qualche tacchettino di legno invece qua sopra siccome questa ovviamente sono una tavola che è un po debole non è sicuramente diciamo una trave da 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 appoggio un architrave anche se gas beton comunque sono leggeri come mattone leggero preferisco ci metterò un quadrotto di legno in modo che appoggi sul mattone qua e qua che faccia proprio da architrave tanto da evitare che il peso vada lì sopra magari anche col tempo fletta un pochino ho preparato ho trovato questo legno che va benissimo da architrave e ho preparato i blocchetti sagomati dove dove incastrarlo adesso cosa succede il concetto qual è è che chiaramente poi questo qui non appoggerà sulla sul telaio della porta ma sarà sollevato perché ora poi mettendo la colla questo si alzerà di qualche millimetro e se non basta ci mettiamo uno spessorino in modo da far andare poi tutto il peso dei successivi gas beton che andranno sopra tra qua a finire al muro andranno a gravare sulla su questo listello piuttosto che non sul telaio evitando così che ripeto per quanto leggero comunque magari un po di flessione la può dare anche col tempo quindi ora abbiamo preparato questi pezzi facciamo la colla e andiamo avanti abbiamo messo i blocchetti con l'incastro per il trave come si vede non appoggia sul telaio della porta magari qua volendo ci andrà comunque un rivestimento ma se no ci si può mettere un po di schiuma qualcosa ma non è una questione strutturale ci si possono mettere invece due viti per fissare da sotto per fissare il telaio sicuramente li metterò qua volevo far vedere qui ho messo due vitine in questo listello per fare un po da zanca ora ci riempio di colla qua e poi farò la striscia di gas beton per andare in pari e proseguo con con direi ancora due file grosso modo ok abbiamo finito il muro fino al soffitto pensavo di riempirlo con della schiuma espansa come in teoria un po consigliano ma lo finirò comunque a colla qualche pezzo di gas beton qui il telaio è stato fissato con tre viti per lato più qua sotto alla trave di legno che abbiamo messo quindi è una volta fissato tolto gli stelle che lo tenevano diciamo in squadra in forma e adesso niente appunto finiamola su in cima l'ultimo l'ultimo spazzetto poi facciamo la finitura ad arenino finitura civile quindi ok allora qui il lavoro è finito non ho ripreso la fase di finitura con l'arenino comunque diciamo è inutile lo faccio vedere in altri video poi sul gas beton è abbastanza semplice ripeto è una casa in campagna quindi diciamo vanno bene anche delle finiture abbastanza rifinitura abbastanza come dire abbastanza alla buona per quanto si cerca meglio di fare di fare si cerca di fare lavoro sempre al meglio e questa è la famosa porta che è stata recuperata telaio montato ripitturata anche qua diciamo tutto quanto recuperato maniglia eccetera è stata una bella una bella idea che ci ha evitato di sarà prendere un'altra porta questa poi una parete che verrà fatta in seguito qua abbiamo lasciato la predisposizione per la lavatrice la corrente col suo bipolare ok qua visto da fuori ecco una piccolo errorino che ha fatto per esempio qui se si vede qua in questo punto si nota la riga di giunta tra tra i due gas beton perché lo stavo finendo e sono stato un po così avevo un po poco arenino per cui non me ne sono accorto lì è rimasta così volendo si può anche riprendere ma qua non è assolutamente il caso qua è come rimasto qui dentro c'è l'architrave con il legno che comunque io ho rivestito e abbiamo fatto così poi abbiamo messo due bordini sul sul montante il lavoro della porta diciamo del telaio tenuto in squadra con dei listelli ha dato ottimi risultati perché la porta per quanto non sia perfetta diciamo di per sé comunque chiude benissimo assolutamente perfetta per cui diciamo che il risultato è ottimo anche la distanza qua della fuga per vedere un po se in squadra bene direi che così accettabilissimo ripeto per il lavoro che deve fare in questa circostanza ok grazie un saluto a tutti